E auguri e auguri, ultima puntata di Rete8 Matinee, guardate che spettacolo, è venuta con noi qui a presentarci queste meraviglie Mirtia Razzi Piacere, ben trovata, buongiorno a tutti Buongiorno, allora, abruzzese doc Sì, sì, abruzzese, anche se il nome è greco, abruzzese doc Greco, e che cosa vuol dire Mirtia? L'ex ragazza greca di mio padre E l'ex ragazza, che poi voglio dire, ma tuo padre che dà il nome della sua ex ragazza Mia mamma l'ha scoperto qualche anno dopo, quindi se no, io se l'avessi saputo prima l'avrei strozzato proprio all'altare Però comunque, vabbè, succede Sono cose che succedono Sì, è unico, diciamo Ci sei solo tu, almeno, prendiamo il bello della situazione Mirtia, Mirtia che improvvisamente si è scoperta artigiana Sì, artigiana più che altro creativa manuale Perché io da piccola ho sempre avuto il pallino della creatività Tanto è vero che mi ha portato nella vita a diventare un architetto Quindi a poter creare, insomma, progetti sia per il pubblico che per il privato Però, diciamo che ho dovuto... Ma fammi capire una cosa, da architetto ad artigiano, per carità, non è tantissima la strada No Perché già scegliere architettura lascia immaginare come dire un altro attento C'è una riduzione del progetto, ecco, perché altro Perché se dalle case alle bambole Certo, all'inizio non è stato ben vista questa cosa Soprattutto perché c'era mio padre che diceva Ah, povera me, tanti anni di studio E dopo a fare i pupazzetti E invece no, non è così Perché comunque lo continuo a fare Ma sto papà è... Papà è tremendo È tremendo, come si chiama tuo papà? Raffaele Raffaele, che dobbiamo fare? Raffaele? E qua siamo partiti malissimo Eh, vabbè, dai, cerchiamo recuperare un buon stradio No, devo dire che alla fine hanno capito che la mia scelta, vabbè, dovuta non soltanto a un fatto pratico perché conciliare mamma, attività Quanti figli hai? Ho due figli, uno di adolescenti Uno di 18 e mezzo e uno di 15 18 e mezzo è bellissimo però 18 e mezzo ci tengo a dirlo Cioè quel mezzo cuore di mamma proprio me lo sto sudando Non si vuole staccare Ma purtroppo va all'università quindi Prima o poi mi dovrò abituare anche a questo Lo sai che in Italia stanno a casa fino a 40 anni? Eh no, lui è già scasato veramente Ah sì? È vero che sei fortunata Che ti lamenti Che ti lamenti No, 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 ha fatto la sua scelta che trovo giusta perché se la deve cominciare a cavare da solo Perché mamma non può sempre fargli la cucina, rifare il letto perché se no nella vita Bra, perché poi sai che funziona, crescono Esatto E lo vogliono dalle mogli Esatto Che per carità ci sta che uno si possa prendere cura Però questa roba di essere pretenziosi Non insegnamola Io ho un marito che sa fare tutto Perché comunque l'hanno addestrato bene Quindi spero che anche a mio figlio Insomma Addestrato Vabbè, parliamo di altre cose Mirtia che è meglio E nulla E quindi dicevamo questa passione per la manualità La manualità l'ho riscoperta in un periodo molto particolare della mia vita Perché mia figlia ha un disturbo dello spettro autistico E scoperto da piccolissima Quindi ho avuto modo di iniziare con lei un percorso di terapie Che tra l'altro l'hanno aiutata tantissimo perché 12 anni fa non si sapeva quasi nulla dell'autismo Certo, immagino Quindi ci siamo rimboccati le maniche e io giustamente ho dovuto fare le mie scelte Avendo anche un'attività commerciale perché ho anche un negozio di arredamenti L'attività dell'architetto comportava un programma a stare fuori sui cantieri per parecchio tempo Poi la sicurezza, le leggi quelle che sono davano poco spazio diciamolo alla progettualità Allora piano piano ho cominciato a pensare di ritornare bimba Nel senso che quando ero bimba organizzavo dei piccoli corsi per i ragazzini attorno a casa mia Ma ho letto questa cosa che mi fa impazzire Cioè tu ti mettevi lì con i giochi quelli di cuscito delle Barbie per fare le maglie Allora viva Dio i miei genitori mi hanno sempre fatto avere tanti giochi utili, libri, viaggi Quindi di conseguenza avevo la magica maglieria di Barbie che era un sogno per i bambini della mia età irraggiungibile Avendo questa cosa mi dispiacevo usarla da sola e quindi ho cercato di coinvolgere tutti i ragazzini che erano meno fortunati di me A creare delle cose da regalare invece di andarle a comprare Creiamole noi e le regaliamo all'amichetta, alla maestra E quindi abbiamo fatto questi corsi per questi ragazzini per un po' di tempo Logicamente poi gli studi e l'andare degli anni, il lavoro mi ha portato ad assopire un po' questa mia creatività manuale E che poi è tornata fuori nel momento in cui ho dovuto affrontare il percorso terapeutico di mia figlia Di riabilitazione Quindi siamo stati parecchio tempo a fare terapie Nelle sale d'attesa Nelle sale d'attesa di un centro E mi portavo qualche lavoretto manuale E man mano che andavo avanti vedevo che questo lavoretto che poi pubblicavo nei social a quei tempi Ecco Facebook, Instagram era agli esordi E cominciavano a notarlo Piacevano 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 perché il bello dei social è questo che ti permette di avere una visione del mondo Non di restare della tua realtà E poi ti arrivano dei feedback, delle risposte da persone che non avrebbero un motivo di farti un complimento gratuito E quindi magari dici quasi quasi Sì, questo fa piacere perché allora ho cominciato a scrivere per delle riviste, dei piccoli tutorial Poi ho cominciato a partecipare a degli eventi creativi che soprattutto vengono fatti, ecco purtroppo lo devo dire al nord Italia Quindi eventi creativi molto belli, tipo può essere i famosi poggi toscani che sono dei market, mercatini, però market diverso dal mercatino In cui vengono selezionati degli artigiani, dei creativi E in un numero insomma compreso tra i 30 e 40 persone in tutta Italia E poi vengono invitati ad esporre le loro creazioni, venderle quindi in luoghi bellissimi Per esempio mi è capitato di esporre in un borgo antico trasformato da albergo diffuso vicino Firenze O per dire nelle barchesse In Abruzzo non si fa? In Abruzzo ci stiamo attivando Ah beh Ci stiamo attivando perché ultimamente è stata fatta una prova diciamo di questi market In una struttura nel Chietino perché soprattutto il Chietino è un po' assopito Cioè non è molto... Chietino? Forse un po'? Eh sì Quindi abbiamo cominciato a fare ecco questa anche questa prova di market di creatività d'eccellenza In piccole che so agriturismi oppure ristoranti o strutture Ma ti stai mettendo tu come dire in questa organizzazione di questi eventi? Eh anch'io sì perché devo dire che siccome sono una delle poche creative abruzzesi che espatriano Nel senso che io spesso andavo fuori, vado tuttora fuori con tutta la famiglia Perché lo consideravo un pretesto di fare una vacanza E quindi di portare tutti in luoghi che magari non mi sarei mai sognata di andare a visitare Perché piccole realtà, piccole città o comunque location antiche Per esempio mi è capitato di sporre in una villa del Palladio per dire Quindi comunque luoghi belli da vedere Belli certo E quindi con questo pretesto partecipavo a questi mercatini così belli, eleganti Che dicevano perché in Abruzzo non facciamo qualcosa del genere Che siamo abituati ai soliti mercatini di paese Che per carità ci sono degli artigiani bravissimi Meravigliosi Anche perché voglio dire l'Abruzzo è terra di artigianato Certo Certo valore Lo stiamo veramente riscoprendo qui in questo spazio della creatività Io vedo delle cose veramente meravigliose e che nascono qui nella nostra terra Per cui andrebbero valorizzate Su questo sono d'accordo con te, è una bella battaglia quella che chiamiamola così Che stai e state facendo e quindi in bocca al lupo per questo Entriamo nel vivo di questo meraviglioso tavolo che hai stato allestito Ci racconti un po' cosa sono Allora, io dalla mia esperienza insomma che ho avuto di questi piccoli lavoretti Che poi sono cresciuti un po' Ho dato vita ad un brand che si chiama Comedy Incanto Handmade Si chiama così per... Comedy Incanto Handmade Cioè fatto con le mani, fatto manuale Si chiama così perché vedevo che le persone davanti ai miei banchi erano sbalorditi Quindi ho detto basta che creo un incanto quindi di conseguenza lo ripropongo anche al nome Certo E diciamo l'aiuto ce l'ho anche da parte del marito Perché altrimenti sarebbe improponibile per me Cioè tuo marito ci mette con te a fare queste cose? Sì però non la parte di cucito, la parte del restyling delle valigie vintage e di piccoli mobili Che io poi tappezzo con delle stoffe particolari che cerco in tutta Europa Bello, bello Ecco perché dal negozio per esempio ho avuto l'opportunità di conoscere delle aziende di tessuti particolari Non fermarmi alla solita merceria, andare oltre Perché tu e tuo marito avete aperto una bottega insieme No no, io ho un negozio di arredamento dove non espongo nulla di quello che faccio E perché? Come mai? Perché questa è una terza, diciamo, è una passione, non è una terza attività perché la tengo ancora come sogno nel cassetto Scusa la prima è che fai ancora l'architetto? Allora prima un negozio o la partita IVA insomma come architetto e poi con la speranza di darla a scuoco Quindi in questo senso è la terza attività Sì, questa è la terza attività Ok E io la chiamo così insomma simpaticamente perché poi alla fine è ridotta a pochi eventi all'anno Architetto, negozio di arredamento e passione per l'artigianato E passione per l'artigianato E quindi che cosa fai? Quindi io mi occupo di tessuto, di cuscito creativo, più che altro ecco realizzo delle dolls che poi le ho chiamate doll sister Perché queste bamboline praticamente hanno le sembianze delle ragazzine a cui vengono regalate E quindi che faccio? Oltre la bambola col suo vestito c'è la bimba che ha il vestito uguale alla bambola No, è bellissimo Ora purtroppo qui non c'era spazio E tu realizzi vestiti uguali alle bambole per i bambini Logicamente quando era piccola mia figlia era la mia modella Quindi lei insomma si prestava adesso non più perché Quanto ha adesso? Ora 15 anni quindi da rosa siamo passati al nero senza le sfumature Lascia perdere E di conseguenza quindi ho creato questa linea di bamboline doll sister che fossero simili alle sorelline più grandi diciamo Certo Poi ecco realizzo le foglioline che sono delle piccole fate dei boschi E di solito le accompagno anche con la sorellina Perché le foglie? Ah perché c'è una foglia? Perché dormono dentro le foglie Che carine! E queste molte mamme le acquistano Aspetta che posso prenderle una? Sì siccome no fai pure Esponi anche tu quello che ti fa comodo far vedere Guarda che bella, guardate che meraviglia Queste praticamente sono usate dalle mamme per i dentini Per come fatine dei denti per le bimbe Uh mi sta per tornare utile allora E quindi per mettere il classico soldino che passa la fatina la notte Riusciamo a fare una bella inquadratura a un primo piano? Che mi si sta... il mio braccio si sta... ok eccola qui Guardate che bella C'è proprio una foglia e la bambolina che ci dorme dentro Ok E poi ecco oltre a questi tessuti floreali che diciamo sono la linea di unione di tutta la mia produzione Io amo recuperare i tessuti vintage e vecchi anche E in particolar modo i famosi torselli che qua in Abruzzo erano i rotoli di lino Ah sì E canapa antichi che le mamme li mettevano da qua Qualche mamma ce l'ha però io questi li recupero nella maggioranza in Nord Europa Perché qua in Italia chi ce l'ha se li tiene stretti Parli di questi, questi rotoli qua Sì questi qua esatto questi rotoli Mia mamma per esempio mi ha messo sotto chiave i miei perché ha detto tu quelli non li tocchi Perché li dovrò dare a mia figlia Anche se mi dispiace che stanno là inutilizzati quando ci si potrebbe fare tanto Ah beh sì certo E questi tessuti li uso soprattutto per il ricamo Perché è un'altra passione che ho Cioè un'altra passione, un'altra tecnica che ho imparato da autodidatta Perché io tutto quello che faccio non sapevo di fare Nel senso ho detto oggi cucio ho fatto la liria di vestiti per bambini Che bello Oggi il ricamo C'era evidente, doveva uscire Doveva uscire Sì sì Oggi il ricamo Perché guarda che brava che sei E ho iniziato il ricamo libero Però vabbè ti sei appoggiata a dei tutorial online qualcosa No Tant'è vero che io all'inizio non sapevo neanche che tipo di punti andassi a fare Quanti è bella questa Mamma mia Guardate anche Scusami No non c'è problema Eccolo qua Guardate sopra che bel ricamo che ha questa Questa meravigliosa bambolina Che poi non è una bambolina Una topolina Una topolina Sì sì perché alcune sono anche pupazzi insomma animaletti Un po' antropomorfizzati ecco Quindi li rendo un po' più uguali Oddio che meraviglia Che dolcezza Che dolcezza E poi vedo che fai anche No aspetta stavi continuando a dire qualcosa di questi I tessuti per esempio quest'anno per Natale ho preparato queste renne Che sono realizzate con un linone che viene dalla Germania I rami che vengono da un albero secco che ho trovato al bosco di Sant'Antonio E dei fili che erano di mia nonna questi Ecco l'unica cosa che mi ha lasciato in eredità La nonna ha un bel po' di materiale anche se lei non mi ha mai insegnato Ma perché tua nonna faceva la ricamatrice? Probabilmente no no Aveva queste passioni di piccoli hobby Guarda lei come si riproduce L'ho ereditato da lei Anche se ecco ho solo dei vaghi ricordi perché non è che ci siamo messe insieme Ecco per esempio questo mi è mancato Non avere delle basi di famiglia Eh certo lo immagino Può darsi che forse c'erano e quindi le ho ereditate Però te le hanno date comunque nel sangue Sì altamente probabili Quindi anche i ceppetti che vedo al posto delle gambe Sì questi sono tutti presidi dai boschi O comunque queste in particolare vengono dal bosco di Sant'Antonio Quest'anno abbiamo fatto una bella gita e quindi siamo andati Tu quando vai in gita fai ricordimento di gambe e corna Ti zampo e corna Ti zampo e corna Poi ecco oltre questo realizzo anche degli accessori per casa Tipo questi runner che sono praticamente fatti da sempre da tessuti antichi E dei pizzi che ho comprato a Montmartre Un anno sono stata a Parigi Ho trovato una botteghina piccola 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 Montmartre è stupenda perché è proprio tutto artigiano Tutto artigianato ci stanno veramente tante cose meravigliose E quindi ho acquistato questi pizzi E poi vedo bijou, vedo bijou Sì è un piccolo accenno di una produzione di piccoli ciondoli Perché delle mie amiche mi hanno chiesto dei regalini piccoli da fare Allora ho pensato magari un ciondolo ricamato può essere anche qualcosa di diverso Perché adesso è un po' meno utilizzato rispetto al passato Però ho cercato di fare qualcosa preso dal passato in chiave un po' più moderna E quindi ho realizzato Tipo questa collana che hai qui Qua magari si può inquadrare bene Se facciamo un bel primo piano a questa collana di mirtia è veramente bellissima E questo è come riesci a produrre perché è tutto ricamo Sì questo è tutto ricamo Ricamo su che cosa? Ricamo sempre sul linone, sul lino antico Tutti i ricami che faccio riesco a farli meglio su questi tessuti che sono molto ruvidi, grezzi Per esempio ho realizzato anche dei puntaspigli che sono questi Fatti con le vecchie formine per fare i cupcake Questi sono veri, sono in metallo Questi forse saranno di una pasticceria degli anni 20-30 Perché io ecco un'altra passione che ho Ma questi sono preziosissimi lo sai? Cioè te lo dico perché noi a casa li possediamo Vengono fuori dei bocconotti meravigliosi Da formine proprio Anzi dell'ottocento quelle figurati Però è materiale prezioso Anche questa che poi è una collana trasformata in Però questo può essere proprio un puntaspigli per sarte Un puntaspigli per sarte può diventare anche Perché io un'altra passione che ho è per il vintage E per il recupero di questi pezzi antichi Che cerco nei vari broccanti, nei vari rigattieri di zona Insomma vado alla ricerca per esempio anche con le valigie Noi, io e mio marito questo, li cerchiamo in Toscana Ma anche in Francia, Londra Abbiamo delle persone che ci aiutano a farli arrivare in Italia Ma voi le restaurate, le rimettete a posto? Sì, le restauriamo, le rimettiamo a posto In più le foderiamo all'interno sempre con dei tessuti Ecco tipo questo che sono dei tessuti Che poi vanno a riprendere il colore del decoro Certo, questa è bellissima È una cappelliera dell'ottocento francese Che poi abbiamo realizzato questo disegno Ecco non si vede perché è dietro No, non si vedrà mai Non si vedrà mai Ve lo dico io, è stupendo Comunque ecco, un disegno simile a quello della valigia bianca Sì, sì E fammi capire una cosa Queste cose voi le esponete solo e unicamente in bancarella Perché se nel tuo negozio non trovano spazio Ma perché nel tuo negozio non ce li vedo? Ma perché ho paura che sia poi una Non so Io non ce li vedo Una contaminazione nella quale non credi Io ho sempre il mio sogno nel cassetto di aprire la mia botteguccia Lì metterò tutto quello che faccio Ma lo facciamo in questo 2022? Ma magari O quando? No, no, sarebbe bello Adesso o quando? Sarebbe bello perché veramente Sto aspettando un po' che le cose si sistemino Soprattutto ecco dal punto di vista di genitore Diciamo la verità Io ho mia figlia Immagino che sia impegnativa Impegnativa Allora impegnativa anche se mi sta dando veramente delle soddisfazioni enormi Perché lei è partita che aveva un antismo severo Grazie alla costanza della famiglia Siamo riusciti tramite la terapia che è durata tanto tanto tempo Più di dieci anni A portarla diciamo a dei livelli di altissimo funzionamento E lei è geniale nel disegno Sicuramente sarà un'illustratrice da grande Grazie anche a dei piccoli passi fatti con altre mamme Ecco questo per esempio mi ha fatto scoprire anche un altro lato della creatività La creatività fatta a fin di bene Per esempio io mi sono scoperta anche adatta a poter trasmettere questa manualità che ho ad altre mamme che si trovano in difficoltà Per dire io faccio parte di un'associazione che si chiama Asperger Abruzzo Sì, per l'Asperger proprio Per l'Asperger che comunque è un termine adesso un po' desueto perché è autismo diciamo autismo a primo, secondo, terzo livello Per Greta Thunberg, se non sbaglio, con lei si è tornata a parlare di Asperger Anche se mia figlia mi bacchetta quando uso questo termine perché comunque Come si chiama tua figlia? Margò Oh, Mirtia, Margò Che dobbiamo fare qua? Mi ci state facendo sentire piccoli proprio No, no, è giusto Con i nostri nomi comuni È giusto Da comuni mortali, vero? Vabbè, Margò Ciao, Margò Complimenti perché hai una mamma fantastica come sarai senz'altro anche tu Sì, sì, anche lei ma anche il figlio Ebbè, come si chiama tuo figlio? Filippo No, no, Filippo è normale Filippo, ti sento vicino Sempre Filippo, proprio il classico principino, biondo con gli occhi azzurri Hai capito, hai capito Filippo? Proprio sempre il cuore di mamma Il cuore di mamma, 18 anni e mezzo E mezzo E quindi stavo dicendo Scusami, ti ho interrotto Mi piace trasmettere questa manualità anche ad altre mamme che si trovano un po' in difficoltà Nel senso che ricevere una diagnosi è tremenda, è una botta Non se ne può parlare perché non ci sono termini adatti per raccontare quello che può provare un genitore Può capire Mi chino proprio, chino il cavo E quindi grazie al fatto che abbiamo creato questa associazione e ci scambiamo un po' delle parole di conforto Perché spesso ci riuniamo in chat e così via Però abbiamo deciso anche che ogni tanto ci riuniamo a fare dei laboratori Quindi ognuno che ha un'arte da parte Anche con i figli è un momento tutto nostro? No, no, anche con i figli però In genere preferiamo tra noi mamme scambiarci delle idee E poi le mamme con i loro figli fanno quello che hanno imparato nell'ambito della serata che passiamo E quindi realizziamo dei manufatti che poi li esponiamo in fiere di paese oppure in mercati importanti Per raccimolare qualche soldino che non fa mai male Per l'associazione Per l'associazione per fare altri laboratori Altre attività Che bello, che carini che siete Come vi si può sostenere? Già che ci siamo diamo queste informazioni Allora, Asperger Abruzzo Siete su Facebook? Sì, siamo su Facebook, su Instagram E ben volentieri ci piace ecco avere questa Questo sfogo artistico molto bello Per cui sosteniamoli perché poi queste cose sollevano un pochino no? Da terra, sollevano da terra Aiutano, aiutano Diciamo questo doppio ruolo sia di artigiana che di anche aiuto a diffondere la creatività Mi piace proprio Ti piace, ci senti proprio Senti ma che cosa mi ci è caduto l'occhio? Allora questo è il frontino Sì, sì, della doll sister Della buvetta Che se n'era caduto prima Eccolo qua Te l'abbiamo rimesso Senti ma ti lancio un'altra te che poi Sì, 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 dimmi Perché me l'hai fatta venire tu quando hai detto che riproduci la bambolina come seconda sorellina Sì, sì Ma faresti anche il contrario? Cioè da una fotografia di un bambino ricreare la bambolina? Lo fai già? Certo, l'ho fatto Per esempio anche di Giustamente i maschietti diciamo che sono Un po' meno frequentati in mezzo a queste doll perché Ma sai che secondo me invece se metti un maschietto All'età giusta Eh Da fare un volo Gli metti nell'età giusta una bambolina secondo me non è male Gli si può risvegliare il sentimento Sarebbe una buona idea Va bene, va bene Si scherza anche Senti, razzi questo cognome mi dice qualcosa di parente? No No Buon per te Scherzo, scherzo E non aggiungo altro Scherzo, ma qui si scherza C'è goliardia nell'aria Perché voi non sapete cosa sta per accadere Non lo so neanch'io Quindi vi lascio immaginare qua Vabbè Oggi è l'intimo giorno Siamo un po' così Un po' tutti Un po' fuori di testa Vabbè, vabbè Io sono contenta di aver incontrato questo tuo mondo meraviglioso Non abbiamo fatto vedere forse Questo cos'era? Un alberello E lì cosa c'è? Qui praticamente ci sono delle creazioni Che avevo realizzato per questo Natale E ci quanto sono le rete Questa per esempio è una creazione bifacciale Nel senso che si può appendere al centro stanza Perché è rifinita in tutti Guardate che dolcezza Che delicatezza C'è per esempio questa lana È una lana prodotta in Abruzzo E questa carta viene sempre riciclata Da una vecchia o spartito musicale Ecco, sono tutti piccoli oggetti Che vado alla ricerca Fatti compassione e con amore Da Mirti Razzi Che io ringrazio vivamente Per essere stata oggi con noi Spero di rincrociarti Ma come no? Le infinite vie della creatività Direte 8 Matinè Nel lasciarti andare Ti auguro veramente feste serene Grazie Come le vuoi tu Auguro a tutti voi E a tutte le vostre famiglie E speriamo di ritrovare un po' di serenità Che ci ha portato via questa pandemia Eh già Questa è la cosa più vera Che si possa dire Io ti ringrazio Noi ci fermiamo Noi ci fermiamo